che avete al governo, lei ha chiesto di far approvare la legge ZAN, la legge contro l'omofobia. Questo significherebbe la prima volta, se succederà davvero, che questa maggioranza vota si spacca. È sicuro che vuole fare una cosa del genere? Non potrebbe avere una ricaduta forte sulla maggioranza Draghi? Vediamo il cartello che ci spiega la legge ZAN. Io penso che noi dobbiamo essere molto chiari e netti nel dire che il Presidente Draghi si è presentato con un programma. La maggioranza si è costituita sulla base di quel programma, poi esistono in ambito parlamentare discussioni su questioni che hanno a che vedere con i diritti, per esempio, sulle quali io non ho nessuna intenzione di ammainare le nostre bandiere, perché le nostre bandiere non sono bandiere astratte. Quando io parlo della legge ZAN contro la homo-transfobia, io parlo di cose che porterebbero il nostro paese nel futuro, nella modernità, ci toglierebbero dal medioevo. E io sinceramente penso che questo sia anche uno delle mie responsabilità. Perché in qualche modo in questo...